Date un'occhiata a questa stupenda proprietà da Berry Plant, si è presentata un'opportunità per assicurarvi questo ottimo immobile. Contiene una stupenda cucina funzionale che farà piacere ai cuochi della famiglia. Sappiate che questa casa si trova in un ottimo luogo, a poca distanza da negozi e mezzi pubblici. Non perdete l'opportunità per vedere questa casa oggi. Contattate la gente.